Mi chiamo Federico Brugnoli, sono l'amministratore unico di Spintra 60, un'azienda che si occupa di sostenibilità nel mondo della moda. Molti nel mondo della moda parlano di sostenibilità. Noi vogliamo offrire un approccio diverso, vogliamo far sì che la sostenibilità sia all'interno di tutti i processi aziendali, per cui nel nostro Master si parlerà sia di sostenibilità dal punto di vista scientifico, ma anche della realtà delle cose, portando anche casi concreti e progettualità specifiche. Sono 22 anni che lavoro nel mondo della sostenibilità e in particolare della moda. Questo ha fatto sì che con l'Accademia Costume Moda si decidesse di intraprendere questo percorso, del quale sono il direttore scientifico. Grazie a tutti!